L'AMPI dice di votare no a questo referendum perché la Costituzione se si cambia non si può cambiare a colpi di maggioranza. È stata fatta unendo le forze di tutti e anche in questo caso doveva essere fatto. Si contesta che siamo insieme forse a compagnie poco piacevoli con cui non abbiamo nulla a che fare. Noi sottolineiamo che con queste altre forze che sono per il no non abbiamo stretto nessuna alleanza. Altri invece governano insieme a partiti che con loro non c'entrano nulla. Noi siamo solo per difendere la Costituzione. Il 4 dicembre votate no.